A un minuto, coach. Vengo. Chiami l'altro time out, coach. Ronnie Bass! Coach, Rev rientra, vero? Non come quarterback. Io non sono in grado di fare quel pitch. Sì che sei in grado. Quando avevo 15 anni, persi mia madre e mio padre nel giro di un mese, Ronnie. Nel giro di un mese. 12, tra fratelli e sorelle. Io ero l'ultimo, ma dovetti badare a tutti quanti. Neanch'io ero in grado, ma avevano bisogno di me. Stasera la squadra ha bisogno di te. Sì, signore. Tu sei il colonnello e comanderai le tue truppe stasera, giusto? Sì, sì. Twins destra, 48, zero rito. Coraggio, andiamo. Vai! Che succede? Non avete mai visto un polso fratturato, Tifoni? Forza un po' di vita in quelle gambe, andrà tutto bene. Buzz, tu arretri ai blocchi esterno. Luis, lascia entrare il tuo uomo. Cosa? Lascialo entrare. Filati. Eravate 12, tra fratelli e sorelle. 8. Già, 12 fa più effetto. 8. 7. Blu 21. Blu 21. Blu 21. Violenza gratuita, diala a pulizio. Al quarterback. Scherza, coach.